Anna Paradisi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, davvero benvenuta, qui nel nostro podcast, in posto delle parole per condividere il suo libro intitolato Ciò che resta della notte. Il libro è pubblicato dalla casa Idrice Interno Poesia, la prefazione di Isabella Leardini. Ed Anna Paradisi è insieme con noi per condividere queste parole che sono presenti in questo libro Ciò che resta della notte. Quando si legge un titolo di questo genere, non può non venire in mente, Anna Paradisi, quelle parole di quella persona che tanti, tanti anni fa chiese alla sentinella, a sentinella, a che punto è la notte. Ora, a che punto è la notte scopriamolo, scopriamolo in questo libro dedicato a Samuele e a tutti i bambini che nascono in silenzio. Ma che bello, perché? Ma la risposta in realtà è molto semplice. Questo libro è dedicato a Samuele, mio figlio, che è nato senza respiro, un bambino nato morto, e così questo libro è dedicato a lui e anche a tutti gli altri bambini che sono molti più di quanto non si pensi, che nascono senza respiro, già oltre la vita. E già oltre la vita. Ma là dove muta stava la madre, nessuno oso neppure guardare. Ecco, dopo la dedica c'è questa frase di Anna Akmatova che è una continuazione di quanto lei ha detto Anna Paradisi. Sì, sì, esattamente. Sono versi che hanno puntato dritto al mio cuore quando li ho letti, quando avevo 16 anni e poi hanno continuato a rimbombarmi in testa insomma in tutti questi anni e nella mia vita, ecco. In che modo rimbombano per poi arrivare al lavoro, anzi al lavorio, di farlo diventare tutto questo una parola poetica? No, non so, credo che forse le voci dei poeti che amiamo in un qualche senso rimangono, non so, almeno a me capita così, mi rimangono nella testa, per cui quando accadono le cose della vita è come se prendessi in prestito le loro parole per dire quello che mi accade. Ecco, quello è quello che è successo con questi versi di Anna Akmatova ma anche con gli altri che riporto all'inizio di ogni sezione. È un po' come se mi prestassero la voce a volte per dire delle cose e per dare un senso alle cose che vivo, ecco, a dargli voce. Dar voce e quindi essere profetiche perché quando la parola è profetica è una parola che dà voce ma è anche una parola di presagio e presagio e profezia sono due parole che Isabella De Ardini ha fatto trovare posto nella sua bella prefazione. Sì, sicuramente è una bellissima prefazione per la quale sono molto grata a Isabella. Sì, ci sono alcuni testi. Il primo è proprio dedicato a Samuele che è stato un po' una profezia proprio perché è stato scritto prima ancora che questo bambino esistesse e ha un po' disegnato la sua storia in qualche modo. Vogliamo ascoltarla la poesia che apre questa raccolta Anna Paradisi? Subito. La poesia si intitola Samuele e porta, insomma, prima del suo inizio alcuni versetti presi dal primo libro di Samuele. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Ancora sai che il tuo nome sarà pieno di luce, il primo battito d'ecografo per una donna sterile. E anche adesso che non sei mi viene quasi da chiamarti quando mi accarezzo la pancia come se ci fossero già le tue mani da afferrare, il tuo respiro da aspettare. Tu non sarai mai carne e questo nome che ti chiama in un soffio resterà preghiera. Quest'ultima parola, preghiera, la parola che chiude questa prima poesia, credo che sia una parola molto presente negli spazi bianchi tra un verso e l'altro, insomma, nella pagina, perché forse è importante, non la preghiera in forma tradizionale, ma la preghiera forse, mi corregga se sbaglio, Anna Paradisi, la preghiera è anche esserci. E in questo libro esserci è molto importante. Anche quando a un certo punto, se ricordo bene, alla fine del libro lei dice se anche i profeti si stancano, e nonostante essere stanchi si continua, si continua, se non è preghiera questa. Sì, sì, credo che sicuramente sia un aspetto che all'interno di questo libro emerge, proprio perché forse fa parte anche della mia vita, quindi, come dire, è un po' inevitabile che poi questa cosa anche tra le righe o negli spazi bianchi, come diceva, emerga, insomma. Anna Paradisi, nata a Rimini nel marzo del 2021, si laurea nel magistrale a ciclo unico in scienza della formazione primaria all'Università di Bologna, attualmente insegna a scuola dell'infanzia a Rimini, frequenta il corso di laurea magistrale in pedagogia all'Università di Bologna. Nel 2019 alcuni suoi inediti sono apparsi sul sito di Atelier Poesia e poi nel dicembre sempre dello stesso anno altri testi sono stati pubblicati nella raccolta Secolo Donna 2019 al manacco di poesia italiana pubblicato da Macabor. Nel 2022 le viene conferito il premio per poeti inediti Alma Mater Violani Landi e nel 2023 ottiene il premio Ritratti di Poesia Si Stampi promosso da Fondazione Roma. Ora, i premi sono importanti, sono importanti a meno dal mio piccolo punto di vista lo sa per cosa Anna Paradisi? Sì, vabbè, per la notorietà questo è importante ma soprattutto perché sottolineano un lavoro e anche qui sottolineano una presenza della parola oggi quanto mai necessaria. Sì, sicuramente per me i premi sono stati anche un po' un modo per mettermi a lavorare seriamente nel senso che a volte è difficile trovare il tempo nella vita quotidiana nello studio nel lavoro per fare un lavoro serio sulla parola e a volte vedere il bando di un premio ti costringono a sederti a un tavolo e lavorare seriamente sui testi e questo è un lavoro che secondo me è necessario proprio per riuscire a trovare la parola giusta e quella che rimane più fedele a quello che uno vuole dire E a proposito di voler dire chiediamo ad Anna Parasini di farci ascoltare un'altra poesia quale scegliere? Allora sceglierei questa poesia presente nella seconda sezione eccola le bambine imparano presto a fare i conti con il proprio sangue devono conoscerne l'odore il colore per quando si mischierà quello di un altro il mio sangue l'hanno preso tutto me l'hanno raschiato da dentro mani che non so amare con le tue invece se mi tocchi inizierò a mettere radici cambierò le mie braccia in rami foglie e sarò come un frutteto di peschi dove anche se ti perdi sarà l'estate a darti da mangiare questa idea di iniziare a mettere radici e vedo qui la sottolineatura di questo di questo verso perché iniziare a mettere radici non è semplicemente una bella figura che si mette dentro il verso ma è qualche cosa di molto più profondo che cosa che cosa intende Anna Paradisi per iniziare a mettere radici ma penso proprio l'idea di una metamorfosi di a un certo punto come piantarsi nella realtà della vita non una vita magari sperata non una vita immaginata ma nella vita reale a un certo punto io credo almeno quello che è successo a me la vita mi ha chiesto di scegliere tra stare presente e radicata nella vita vera o rimanere legata a un sogno un'aspettativa a qualcosa che non si è realizzato penso che per me sia proprio questo cioè impiantarsi in quella che la vita è e non in quello che abbiamo sperato per la nostra vita o abbiamo immaginato e anche impastare piano imparare a impastare piano a guardare negli occhi il buio come vedo qui in un'altra poesia dedicata a Ruth la presenza abbiamo detto la parola profetica ma qui la presenza di profezie è molto importante in questo piccolo libro ed è importante anche per questa presenza di Ruth sì sicuramente nel senso c'è proprio questa cosa nella storia di Ruth che è una storia a me molto cara anche qui proprio di restare legati a una vita vera cioè non tanto appunto rimanere legati a un'idea ma quanto al avere a che fare con il buio della propria vita guardarlo in faccia e metterci dentro le mani e a proposito di guardare a proposito di guardare ascoltiamo un'altra poesia per questa conversazione quale ci propone? ma vorrei proporre questa sempre all'interno della seconda sezione che come l'altra insomma ha a che fare con le piante col fiorire se tu mi guardi io fiorirò come un mandorlo aspetterai con me lungo la notte e non avrò paura del gelo toccami la pancia i segni e le dita e io fiorirò poco alla volta mi laverò al sole le macchie di sangue e se anche tutti potranno dirmi che gli aloni si vedono ancora sarà già ora che io venga mangiata mi staccheranno un pezzo alla volta e tornerò sabbia tornerò vento dimenticherò tutto tranne il tuo nome quando ha cominciato Anna Paradisi a fare poesia? ma ho cominciato appunto grazie a Isabella Leardini durante gli anni del liceo Isabella Leardini tiene ancora dei laboratori insomma nei licei qui a Rimini ma anche in altre parti d'Italia ma io l'ho incontrata qui a Rimini in realtà avevo iniziato prima con molti maldestri tentativi ma partecipare a un laboratorio a diversi poi perché l'ho seguito insomma negli anni del liceo mi ha permesso di fare iniziare a fare un lavoro serio sulla mia poesia cioè che non era tanto per diventare una poetessa o pubblicare un libro che non era nelle mie aspettative insomma di ragazza sedicenne ma era proprio l'idea di dare la giusta dignità e le giuste parole a quello che vivevo a quello che sentivo e per me è stato fondamentale nella mia vita trovare questo modo di comunicare perché ci sono tante cose che non saprei dire altrimenti e per questo insomma sono molto grata a Isabella Leardini per questo lavoro che mi ha insegnato a fare in quegli anni e che adesso insomma mi porto dietro ci sono tante cose che non saprei fare altrimenti bella questa cosa perché affidare la parola alla poesia non è vivere dentro una torre d'avorio sulla cima di un monte ma è vivere vivere la realtà di un mondo nel bello e nel brutto che sia è semplicemente vivere la realtà forse forse dovremmo comprendere anche un pochino più di questo aspetto quando noi parliamo di poesia la poesia non è riservata a qualcuno a qualcuno che sa a qualcuno che sente chissà quale vibrazione va bene d'accordo però la poesia è semplicemente per tutti basta prendere come diciamo noi in questo nostro podcast compiere quel gesto rivoluzionario molto rivoluzionario ad esempio prendere in mano il libro ciò che resta della notte abbassare lo sguardo aprire la pagina e cominciare a leggere e quando noi raccontiamo le poesie chiediamo sempre ai nostri ospiti in questo caso ad Anna Paradisi prende il libro in mano lo ha preso ce l'ho sì apre questo libro a che pagina l'ha aperto 30 a pagina 30 e allora ascoltiamo ciò che c'è scritto a pagina 30 oggi non sono io a portarti in braccio e resto a consumare il tuo nome in fondo alla chiesa questa è la Pasqua di chi resta il mare che si spezza e altre braccia a sollevarti tutto per noi si ferma al venerdì al silenzio della croce ad un sepolcro che non sarà mai vuoto poco fa dicevo che in questa poesia è importante esserci non l'esserci nel senso anche se vogliamo anche filosofico del mezzain o del dasain a parte questo e questa poesia è proprio è proprio un esserci no stab at matter potremmo 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 dire esattamente quella donna non faceva altro non diceva parole no quella donna stava nel silenzio e nel silenzio di fronte a una croce e di fronte a un sepolcro che non sarà mai vuoto ecco queste sono le parole le parole forti che ci dice la poesia di Anna Paradisi che ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato e prima di salutarci invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? in questi giorni sto leggendo molto piacevolmente non è mai noto non è mai giorno di Francesca Saragnoli che è un'autrice anche lei Emiliano Romagnola che è edito anche questo da interno poesia mi sta piacendo molto è un'autrice che amo e anche quest'ultimo suo libro insomma vale la pena essere letto e che sarà raccontato da noi nelle nostre prossime conversazioni questo libro a cui faceva riferimento per l'appunto Anna Paradisi che ringraziamo e buona giornata Anna grazie a voi grazie grazie a voi grazie a voi